Il closing si farà, lo Spezia diventerà americano e questo non so se sarà per noi una grande scelta, sicuramente per Volpi sì, sicuramente per Plata e per la nostra squadra. Non vorrei fare la fine del film, vi ricordate il film di Totò con la Fontana di Trevi, quando vendevano la Fontana di Trevi all'americano di turno? Non vorrei che lo Spezia Calcio facesse la stessa fine. Siamo in Corso Europa 12 a Milano, a pochi metri da San Babila, questa è la sede dello studio Grimaldi. Qui sanno cosa sta succedendo per il nostro Spezia Calcio, hanno una sede anche a Roma, siamo entrati e ci hanno un po' tergiversato, non ho detto la verità, però sanno bene della situazione. Siamo qui con altri giornalisti importanti, Marco Nosotti di Sky, poi c'è Di Marzio, c'è Radio Monte Carlo, siamo tutti in attesa. Siamo aggiornati, ciao amici della Liguria Sud.